Nella sala del Grand Hotel, dove la sera del 13 gennaio 1923 fu convocato per la prima volta il Gran Consiglio del Fascismo e deliberata per volontà del Duce l'istituzione della milizia volontaria per la sicurezza nazionale, il Duce inaugura con solenne austero rito una lapide commemorativa del duplice fondamentale evento. Grazie a tutti!